L'entrata in vigore delle strade accessibili ai soli autorizzati con pass ZTL partirà da subito a Santa Maria e dal primo giugno nelle altre frazioni del territorio San Marco Lago Iastro Marina e Castellabate Capoluogo. L'amministrazione di Castellabate con delibera di giunta comunale numero 113 del 17 maggio 2019 ha infatti istituito la disciplina del traffico con zona traffico limitato e aree pedonali urbane che resterà attivo fino al prossimo 30 settembre. Alcune aree del territorio necessiteranno quindi di apposita autorizzazione per il transito e la sosta nei diversi settori. In queste aree i residenti, i proprietari di immobili, i locatori, i dipendenti e i professionisti potranno accedere previo al rilascio dell'autorizzazione del Comando Polizia Municipale di Castellabate. Per evitare lungaggini burocratiche le autorizzazioni permanenti rilasciate negli anni precedenti restano valide anche per il corrente anno ed eventuali sostituzioni o modifiche non restano gratuite. Anche quest'anno è stata anticipata l'entrata in vigore della disciplina estiva per evitare la congestione dei centri cittadini. Per ulteriori informazioni sulle modalità e sugli eventi diritto, gli interessati potranno rivolgersi al Comando ubicato alla Via Roma della Frazione Santa Maria oppure telefonare al numero 0974 96 15 31. Queste misure ci consentono di ottenere una mobilità pubblica migliore e una maggiore sicurezza per le strade, limitando i disagi ai cittadini durante il periodo di maggiore afflusso di veicoli, dichiara il sindaco Spinelli. Lo scopo dell'entrata in vigore anticipata della ZTL e delle aree pedonali stagionali è rendere Castellabate già pronta ad accogliere i turisti e ben organizzata all'arrivo dei tanti che scelgono le varie frazioni del nostro territorio per le proprie vacanze.